Uno dei temi centrali affrontati ieri sera nel corso della 57esima Assemblea di Appindustria Confimi Verona è quello della legalità. Ospite d'eccezione sul palco l'ex magistrato e giudice Gerardo Colombo che proprio di legalità e rischi di infiltrazioni mafiose ha parlato davanti al numeroso pubblico di imprenditori presente. Io credo che sia molto importante parlare all'impresa dei rischi che l'impresa corre per via della, io direi delle volte anche della superficialità con la quale si affronta questo tema, il tema dell'infiltrazione e credo che sia importante sia per quel che riguarda riuscire a trovare un po' la quadra dei comportamenti propri sia per trovare degli strumenti che diminuiscano il rischio. A far da eco al messaggio lanciato dall'ex giudice anche Pierpaolo Romani coordinatore di avviso pubblico. Mi sembra assolutamente indispensabile che si parli di questo tema e credo anche che sia un gesto di grande responsabilità in un momento in cui da molteplici indagini, inchieste emerge come il crimine organizzato e la corruzione siano molto attente a quello che succede nel mondo delle imprese. Parlare di legalità quindi vuol dire parlare di strumenti che devono difendere assolutamente la nostra economia e i nostri imprenditori. Quindi è molto importante che oggi Appindustria ponga come tra i punti centrali il tema della legalità perché senza legalità non c'è sviluppo. Mi pare importante anche lanciare un messaggio da questo autorevole Platea. Ci sono imprenditori non solo vittime ma imprenditori che vanno a cercare i mafiosi. Ecco gli imprenditori devono capire che i mafiosi non risolvono i problemi, i mafiosi li creano i problemi perché una volta che ti metti in contatto con loro la loro finalità è quella di sottrarti l'azienda e di ridurti sullastrico.